Lo sgombero di una scuola a causa del terremoto, un incendio boschivo, il ripristino della viabilità su una strada, un intervento aeromobile per il trasporto aereo di un mezzo cingolato antincendio, ricerca e soccorso e li dispersi in alta quota. Sono alcune delle attività che si faranno nell'esercitazione VARDIREX 2018, organizzata dall'Associazione Nazionale Alpini e dal Comando Truppe Alpine. VARDIREX sta per Various Disaster, Relief Management, Exercise, Scenario dell'esercitazione che si svolgerà dal 18 al 20 ottobre all'Aquila, il parco di Muratagigotti ha coppito. L'obiettivo è impiegare moduli di protezione civile integrati con componente militare e componente volontaria per poter disporre di assetti misti in grado di operare in sinergia in caso di calamità e parlare la stessa lingua, soprattutto ha sottolineato il comandante del nono, il colonnello Marco Iovinelli. Il nono Alpini sarà impegnato con il suo battaglione multifunzione Vicenza, comandato dal tenente colonnello Rivi, assieme a squadre di soccorso del reggimento con la protezione civile regionale, volontari dell'ANA e altre forze dell'ordine. Parteciperanno anche altre organizzazioni di protezione civile regionale, Prefettura dell'Aquila e il Comune. Sarà un'esercitazione straordinaria anche dal punto di vista dei mezzi impiegati. Questa è un'esercitazione organizzata dal Comando delle Truppe Alpine con la partecipazione dell'Associazione Nazionale Alpini e della protezione civile abruzzese. È un'esercitazione che vuole e mira a far interagire diverse organizzazioni che sono rivolte alla protezione civile. Durante l'esercitazione saranno gestiti tre differenti eventi emergenziali che si verificano quasi contemporaneamente in tre differenti regioni del territorio, Abruzzo, Piemonte e Veneto. Nell'area di Muratagigotti ci sarà anche un campo di accoglienza dotato di posto medico avanzato. Per il Prefetto dell'Aquila, Giuseppe Linardi, si tratta dell'inizio di un percorso virtuoso e ha proposto anzi di fare questi appuntamenti almeno una volta l'anno. È l'inizio di un percorso virtuoso sia perché io ho avuto un incontro e anche un'intesa con le strutture delle Forze Armate per fare in modo che questo diventi un appuntamento annuale. Il punto è anche quello di testare attraverso un impegno più ampio, attraverso un intervento più ampio delle strutture che si occupano di protezione civile, un intervento di tipo corale di tutti coloro che si occupano di protezione civile in questo territorio. L'esercito italiano è sempre più caratterizzato del resto da una duplice capacità di intervento sia in ambito operativo sia nelle complesse attività a supporto della popolazione nel campo della sicurezza e della protezione civile. È una componente fondamentale nella gestione delle crisi scaturite da calamità naturali, il strettissimo coordinamento con la protezione civile e le forze di polizia e soccorso dello Stato e questo grazie all'elevato livello di preparazione dei propri uomini e ai mezzi tecnici e tattici a disposizione.